E veniamo adesso a parlarvi di una bellissima coppia che si è formata a uomini e donne, ossia Nicole Mazzocato e Fabio Coloricchio. Bellissima coppia che come ricorderete sicuramente si è formata a uomini e donne proprio 3 anni fa circa. Sicuramente ricorderete che Fabio Coloricchio prima di diventare tronista era stato proprio corteggiatore di Teresa Ciglia. Tanto per fare un po' di crono story dei troni. Da quando Fabio e Nicole si sono messi insieme si sono trasferiti a Roma, dove lei sta facendo l'attrice e lavora al Mamma Cita, mentre lui sta continuando come istruttore di fitness e ovviamente con le serate dato che è veramente molto richiesto. Insomma per farvela semplice la coppia ha veramente ancora moltissimi fans che li seguono. Ma non sono sempre state rose e fiori. In quanto circa, 6 mesi fa si erano anche lasciati per alcuni mesi dopo un periodo di crisi. Ma adesso nella coppia è tornato il sereno e sono più innamorati che mai. Abitano sempre a Roma e sopradicamente si recano a Belluno città dove è nata Nicole. Poi ovviamente l'estate è dedicata all'Argentina dato che lui è argentino di origine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.